Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali e come tutte le mattine siamo in diretta alle 7.30 ma un saluto lo dobbiamo ed è sacrosanto anche a tutti quelli che ci seguono in replica perché abbiamo tante repliche fino alle 8.30 del mattino, poi c'è la Santa Messa poi di nuovo la rassegna stampa alle 9.10 del mattino poi alle 11 c'è il telegiornale di ieri sera seguito dalla rassegna stampa e poi l'ultimo passaggio è alle 13.30 quindi salutiamo tutti questi poi chiaramente salutiamo anche quelli che ci guardano invece in diretta sia in televisione che sui social network sulla pagina di Facebook rassegna stampa che poi è disponibile anche sul sito internet occhialanotizia.it allora oggi è martedì 24 ottobre e il santo di oggi, vediamo subito il cartello allora oggi è Sant'Antonio Maria Claret ma è anche San Giovanni da Capestrano che è nato nel 1386 allora il sole è sorto alle 7.33 tramonterà alle 18.11 minuti il cielo sarà oggi sereno poco nuvoloso con temperature in aumento specie quelle minime mercoledì 25 ottobre e mancano due mesi a Natale domani il cielo sarà sereno poco nuvoloso le temperature senza variazione di rilievo e giovedì 26 ottobre ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature addirittura in aumento condizioni di tempo stabile sulle Marche anche nei prossimi giorni nella giornata di venerdì a seguire poi un peggioramento nella giornata di sabato del tempo però insomma non lamentiamoci perché sta andando veramente bene da questo punto di vista a parte come vedremo anche tra poco sui giornali la pausa e il tempo molto ventoso e il tempo brutto dell'altra notte allora il Corriere Adriatico primo piano siamo sulla prima pagina dell'edizione pesarese in primo piano c'è la cronaca con le razzie dei ladri nelle case addirittura all'ora di cena ladri per un pugno di castagne piano sicurezza per il quartiere di Borgo Santa Maria presidio, più vigili e anche le telecamere poi dicevamo del tempo il vento a 70 km all'ora fa cadere alberi e provoca blackout elettrici il maltempo causa danni anche al cimitero cede un pannello, chiuso un padiglione parliamo del cimitero di Pesaro Aspes al lavoro per riaprire nei prossimi giorni quando poi sarà proprio la giornata dedicata il 2 di novembre, giornata dedicata ai Santi e poi ai defunti la pagina di Fano del Corriere Adriatico Fano non è più cenerentola e intercettiamo fondi e opere il sindaco Massimo Seri rivendica attivismo e visibilità negli organismi italiani e sovranazionali in questo mandato è stato costituito l'Ufficio Europa che ha redatto tutti i progetti ma la bella notizia cari telespettatori non bella, bellissima, straordinaria è quella che il Corriere Adriatico pubblica in primo piano sotto la pagina di Fano in questo cartello tenuto dai bambini c'è scritto Bentornata chi è la Bentornata? è la bambina che molti di voi ricorderanno molti di voi avranno pregato per lei quella bambina di 10 anni che frequenta la quinta elementare di un istituto cittadino fanese che è stata coinvolta in un bruttissimo incidente stradale sulla panoramica del colle Ardizio stava tornando la sera del 19 settembre a casa con la mamma a bordo di una Opel Corsa e purtroppo a causa della pioggia è uscita mentre scendeva dall'alto della bettola verso appunto Fosso Signore è andata a sbattere contro un albero ed è finita catapultata dall'altro lato della strada ora ricorderete che la bambina era la più grave quella che stava peggio e questa è la fotografia che invece questa mattina ci fa sapere che la bambina è tornata a scuola e quindi sta bene e questa è la bella notizia del giorno la pagina di Fano roulette, roulette al parcheggio e toilette alla fontana ormai è un ghetto degrado in città i residenti protestano di giorno sbarcano il lunario chiedendole l'emosina davanti al supermarket stiamo parlando di un parcheggio che è famoso per questi bivacchi per queste soste un po' incontrollate tra via Kennedy e via della giustizia siamo dietro il cimitero centrale ecco questa è la fotografia che dice un po' se lo vedete quest'uomo che si lava i denti giustamente al mattino però sta creando un po' di malumori perché chiaramente poi queste situazioni non possono far altro Federico Dolci dice abbiamo paura mentre Elena Giunti dice serve un censimento e Francesco Rovinelli così non c'è decoro Carbinieri in città sta mattina leggo una roba per un'altra non so perché comunque non c'entra niente cerco di andare veloce perché abbiamo i tempi contingentati ma non c'entra niente allora Cantieri in città spuntano reperti ovunque ma il museo archeologico è sotto chiave trovati pure dei calzari romani intanto slitta l'apertura a Natale la soprintendenza non ha le risorse per completare gli allestimenti la pagina di Pesaro in primo piano come dicevamo i calcinacci che cadono fra le tombe del cimitero il forte nubifraggio di venerdì e un fissaggio al tempo sbagliato hanno provocato il distacco di pannelli di rivestimento al padiglione dei fiori subito chiuso da Aspes e non si sa quando riaprirà poi all'interno delle pagine del resto del cardino si parla anche della beffa degli etilometri a Pesaro 3 su 4 non funzionano la polizia municipale dunque è al palo e poi a Urbino il problema dello spaccio di droga Urbino come in tanti altri posti ma Urbino sapete sede di universitari e quindi c'è un giro di studenti notevoli, di giovani spacciano come nelle fiction questo è il titolo il giro dei ventenni insospettabili è ai domiciliari Marco il ragazzo sorpreso con quasi due etti di cocaina le aveva in casa il dirigente del commissariato dice per loro la trasgressione non è un problema rami sui fili della corrente evento a 72 km all'ora a Pesaro la pioggia ha fatto staccare alcune lastre in un padiglione del cimitero centrale raffiche di interventi dei pompieri dei vigili soprattutto sulla costa a ottobre caduti appena 35 mm di pioggia la media è di ben 87 quindi siamo molto al di sotto in effetti a ottobre è piovuto davvero molto molto poco la parte buona è che la notizia buona di tutto questo è che almeno lo smog è stato spazzato via grazie anche al forte vento e subito torna l'alta pressione Pierotti Pierotti è il sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti ieri in regione assieme al presidente Luca Ceriscioli e al vice presidente del consiglio regionale Renato Claudio Minardi che cosa ha detto Pierotti? Pierotti si è schierato contro il presidente degli Stati Uniti Trump sul tartufo il sindaco di Acqualagna propone l'embargo verso gli Stati Uniti è una butada chiaramente per la per la fiera il perché lo lasciamo a voi lo lasciamo a voi ve lo lasciamo leggendo e comprando i due quotidiani allora a Orciano c'è invece l'altra bella notizia fortunatamente dopo almeno più di due anni la voragine che si è creata in una importante via del paese è stata è stata chiusa era lì da oltre due anni e vedete nella foto di sinistra questa è la fotografia che poi tra l'altro abbiamo fatto vedere anche ieri sul telegiornale e la fotografia ci dà speranza perché comunque vedete è stata chiusa questa voragine ora è solo un ricordo riaprirà anche la strada e Sebastianelli promette a novembre sarà tutto come prima poi sempre sulla pagina del Carlino Don Sesto Senso così viene chiamato con questo soprannome anche sui social passa il testimone dopo 47 anni il parroco storico di Pergola Don Sesto Biondi ha passato il testimone di capo della comunità a Don Filippo Fratelloni che per 11 anni aveva ricoperto il ruolo di suo vice emozionante cerimonia presieduta dal vescovo domenica mattina nella cattedrale della città dei bronzi il sindaco si attarda e non dà i documenti un consigliere lo denuncia e adesso il sindaco di Monbaroccio Vichi è indagato dalla procura così il primo cittadino il nulla che diventa indagine Angelo Vichi è indagato per rifiuto e omissione di atti d'ufficio l'indagine nasce da un esposto del consigliere d'opposizione Emanuele Petrucci Andiamo adesso avanti con il resto del carlino Magnini convocato a Roma lunedì sarà interrogato dai giudici dell'antidoping assieme al pesarese anche Michele Santucci la procura di Pesaro ha raccolto fonti di prova contro Porcellini ed elementi contro Magnini grazie ai telefoni controllati e adesso la lezione di vita di Giordano che è un ragazzo non vedente eccolo qua su questa fotografia pubblicata questa mattina sul giornale gioco a baseball dice Giordano e mi diverto è cieco dal 2010 a causa di un incidente in campo mi aiutano i suoni c'è tutta una serie di azioni che i giocatori svolgono da soli perfino negli spogliatori a grinta grinta da vendere scrive Angelica Panzieri sul quotidiano stamattina il 25enne pesarese Giordano Cardellini consigliere dell'UCI UICI che condelega allo sport e ai giovani dal 2010 dopo che ha perso la vista in un incidente stradale la sua vita è cambiata ma il giovane non si perde d'animo e dice non tutti i mali vengono per nuocere ora ho sempre da fare commenta il ragazzo mi spendo molto per lo sport perché anche un non vedente lo può praticare tranquillamente e proprio domenica scorsa il 22 di ottobre con un suo collaboratore si chiama Biagio Cattaneo dice ho organizzato una dimostrazione di baseball per ciechi allo stadio comunale Diamante di Pesaro davvero una grande lezione di vita morti sul lavoro soprattutto sto pensando in questo momento a quelle notizie che vi abbiamo dato anche nei mesi scorsi di quei giovani annoiati che invece attraversavano la strada mi è venuto questo flash la strada a Senigallia con la busta per non vedere la strada e rischiare la vita pensate questo è cieco questo ragazzo proprio a causa di un incidente stradale gli altri che hanno tutto visto udito tutto quanto con la busta sulla testa per sfidare la sorte pensate morti sul lavoro record negativo la causa il poco addestramento metà dei capi provinciali dei casi provinciali avvenuti qui l'area vasta lancia l'allarme questa è la pagina di Urbino e quella del Corriere invece vecchio è chi non si gusta la vita sono parole di Giuseppe Ottaviani che ha 101 anni e che dice fate come me lo sport da gioia una lezione magistralis a 101 anni del campione di atletica appunto Giuseppe Ottaviani che ha 101 anni 4 mesi e 6 giorni ed è record man lo ricorderete sicuramente dello sport e soprattutto della vita a Pesaro invece si piange la morte di Mina Bispesero in lutto si è spenta la storica tifosissima fondò il club di donne con Anna Nicolini nel 1986 l'ultima partita guardata dal balcone di casa mancheranno le sue urla all'arbitro a cui poi chiedeva scusa domani il funerale a San Carlo due pesaresi due pesaresi nella nazionale amputati in campo siamo un esempio per tutti Luigi Magi e Riccardo Tonti protagonisti azzurri agli europei di calcio quinto posto e pass per i mondiali in Messico dal tumore ai traguardi esperienza unica questa torniamo sulla pagina esperienza unica non lascerei questa squadra per nulla al mondo sono quelle belle notizie sono quelle buone notizie di cui parlavamo anche ieri in occasione del convegno che c'è stato per il restyling del nuovo amico il giornale settimanale della diocesi delle tridiocesi questa ricerca delle buone notizie che danno speranza e non quelle cattive che mettono paura e ansia non ci sarà tartufo per Trump anche il Corriere Adriatico questa mattina con il sindaco Pierotti lancia l'embargo agli Stati Uniti usciti dall'accordo di Parigi per la diminuzione dell'inquinamento chiederò ai commercianti di interrompere l'export negli States a qual anni aderirà alla Green Climate Fund e poi che strano la politica sulla pagina delle Marche che strano PD tanti generali e zero truppe la Morani l'onorevole Alessia Morani su Comi dice Gostoli nuovo volto della grande Pesaro Alessia Morani deputato del PD fa la scaramantica se parliamo di elezioni non dimentichiamo che il Rosatellum non è ancora legge sarebbe sebbene mi auguri che lo diventi manca ancora il passaggio al Senato i negozi torniamo alla pagina di Fano questa volta del Corriere Adriatico i negozi del centro storico sviluppino un marketing i negozianti del centro storico di Fano sono un po' preoccupati per il centro commerciale Fano Center che sta richiamando come era inevitabile ovviamente tantissima gente tantissima gente che sta affollando in questi giorni un rinnovato e ampliato centro commerciale ma Confcommercio sprona però gli esercenti e non contrasta il nuovo Fano Center Varotti Amerigo Varotti che solitamente non le manda a dire quindi se deve dire qualcosa lo dice punto e basta segnala come molti commercianti però abbiano aderito al progetto di Ocean Ricciatti invece l'onorevole Lara Ricciatti firma una legge per favorire le start up l'onorevole prima proponente del disegno che prevede finanziamenti e agevolazioni Vale del Cesano la voragine finalmente chiusa il traffico a metà novembre l'annuncio del sindaco di Terre Roveresche dopo la prima immagine pubblicata sui social dopo più di due anni dice Antonio Sebastinelli il sindaco di attesa ora i lavori sono addirittura di arrivo pugno duro invece contro chi abbandona oggetti e rifiuti da San Costanzo vigilano anche le guardie ecologiche volontarie ma il consigliere del Movimento 5 Stelle esprime delle riserve a Piazza Redi invece Pesaro i negozianti in fuga per il declino che c'è in questa storica piazza il centro del quartiere Monte Granaro Muraglia soffre per l'incuria e la scarsa manutenzione chiudiamo con la pagina delle Marche del Corriere Adriatico andiamo a leggere il titolo allora le messe di guarigione dopo il Santone di Force allora il Santone di Force lo ricorderete tutti eccolo qua quello che è stato definito il Santone di Sorce in questa immagine con il povero Don Gabriele Amort quello che poi adesso ha detto io me ne vado da un paese vicino ad Ascoli perché quella della Madonna delle Spine insomma che gronda olio eccetera eccetera questo per il momento il caso è archiviato è intervenuto anche il Vescovo Monsignor D'Ercole e questa cosa per il momento è chiusa lì però adesso ne è venuta fuori un'altra un nuovo caso alle porte di Ascoli allora le messe di guarigione dopo il Santone di Force questo è il titolo che cosa è successo è successo che a Poggio di Bretta pare che si facciano degli esorcismi o addirittura riti strani adesso questo riti strani è tutto da vedere in realtà il parroco spiega che qui si prega e si curano soltanto le ferite dell'anima ora che ci siano dei luoghi delle chiese dove si facciano delle preguiere di guarigione e degli esorcismi nella chiesa cattolica non è una novità non è una stranezza importante che ci sia l'autorizzazione del vescovo a farlo e su questo è ma dove ha sbagliato questo questo sacerdote questo sacerdote qua è che per per dire la sua per dire la sua si è affidato ad una trasmissione televisiva e quale trasmissione televisiva domenica 5 è una roba del genere si chiama così con Barbara D'Urso ecco questo è il vero peccato il resto si può fare l'importante è che ci sia l'autorizzazione del disco buona giornata ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale e ci vediamo stasera